Quindi andiamo a vedere di nuovo. Perdere poco quando le cose vanno male e guadagnare tanto quando le cose vanno bene. Non deve essere una frase filosofica che deve rimanere lì. Perché significa e deriva dall'essere investiti poco quando l'ambiente è alto rischio e basso rendimento, quindi vuol dire essere investiti poco in queste fasi, poco o niente, e essere investiti molto dove con molto si intende sia in termini di equity che in termini di size quando l'ambiente è a basso rischio e alto rendimento. Ora c'è un problema che deriva di nuovo e torniamo al capitale mentale. Vi faccio una domanda. Leggete questa frase, è chiara per tutti? Perdere poco quando le cose vanno male e guadagnare tanto quando le cose vanno bene deriva dall'essere investiti poco quando l'ambiente è alto rischio e basso rendimento e essere investiti molto in termini di equity più size quando l'ambiente è a basso rischio e alto rendimento. È chiaro per tutti il concetto? Sì, è chiaro, sì. È chiarissimo, perfetto. Ma che cosa succede? E vi faccio una domanda. Che cosa succede se io mi sono bruciato il capitale mentale durante tutta questa discesa? Oltre al capitale anche, magari l'ho dimezzato, ok? Con quanta size e con quanta equity e con quanta fiducia entro a mercato durante questo rialzo? Tanta o poca? Arrivi scarico, giusto? Arrivo scarico. Attenzione a questo passaggio, questo non l'abbiamo mai visto ragazzi così, eh? Ve lo presento oggi per la prima volta in questa maniera. Non ci credi più. Non ci credi più. Perché hai perso la fiducia. Anche se l'hai fatto con size piccole, non ci credi più. Se l'hai fatto con size grandi e questo rispondo a, non so se c'è Marco con noi, mi sembra di no, che chiedeva oggi il discorso della 05, 025, 1% di rischio. Anche questa cosa. Tutti vi dicono che il massimo, il massimo che devi rischiare è il 2%, poi qualcuno deve essere l'1%, per qualcuno è qualcun altro, no? Quando volo il panico, non ho capito. Il punto è che non può essere statica. Adesso ho capito quando vuoi il panico. Ah ecco, perfetto. Vedi che si collega. È tutto un discorso di psicologia, ragazzi. È tutto un discorso psicologico. È puramente psicologico. E adesso capisci perché voglio il panico. Ok, quindi se arrivate gli scarichi, non avete la size. E se non avete la size e va anche bene, che cosa succede? Guardate come gira. Ok, alla fine avete investito, però non è durato il mercato a lungo come nel 2021. È durato pochissimo. E quindi è durato pochissimo e sono stato all'interno di quel trend con size piccole. Com'è la mia psicologia? Com'è il mio capitale mentale? Alla fine della risalita. Caspita, cosa dovevo fare col senno di poi? Mi sono perso, no? Mi mangio le mani. Massimo, intendi quando sono rimasto senza comprare per Maze in pratica? Ecco, succede che non recuperi niente di quello che hai perso prima. Tra l'altro le perdite sono inversamente proporzionali, quindi magari hai perso il 5% per fare di nuovo. Adesso il 5% va ancora bene, però poi per recuperare devi fare un po' di più. E succede che sei di nuovo alla rincorsa del risultato, perché poi arriva il crollo successivo e dici che palle, anche stavolta non sono riuscito a portare la mia equity sui massimi, no? Questo è il concetto. Quindi adesso entriamo un po' nel, entriamo un po', ah ok, aveva senso acquistare e hai visto la sicurezza nel farlo. Sì, sì, perché vai ad unire un po' tutti i pezzi, chiaramente come dici tu poi serve, quella sicurezza arriva dal lavoro che stiamo facendo adesso, ok? Ancora peggio, cominci quando sta per terminare il rialzo, perché lì dici, giusto Angelo, fantastica osservazione, perché lì dici, caspita, aspetta, sta succedendo, fammi entrare. E lì prendi le mazzate di nuovo, no? E il motivo per cui a maggio-giugno ero sicuro nel acquistare, non ero sicuro del risultato, ero sicuro di me stesso, ero sicuro dei miei dati, no? Perché? Abbiamo sempre parlato, no? E ci sono due condizioni, che c'è il mercato, la condizione del mercato e la condizione del mio trading, in questo senso, no? Allora, voi immaginate, partiamo così, poi faremo una lezione specifica sull'expectancy e vedremo bene, ok? Vedremo, andremo poi nel dettaglio anche con alcuni esempi, eccetera, però una cosa che potete fare prima ancora di, come dire, di parlare di pivot, di pullback, eccetera, dovete conoscere la vostra expectancy, ok? Quindi, diciamo che volete conoscere la vostra expectancy sul breve e sul lungo termine. Lungo termine è almeno un anno, ok? Breve termine gli ultimi cinque trade, se non avete un anno quello che avete, ma dovete iniziare a costruirla, perché un ragionamento che potete fare è dire, ok, rischio lo 0,25 della mia equity line quando la mia expectancy, sia di breve termine che di lungo termine, è negativa. Quindi che cosa succede? Che durante questo crollo, ad un certo punto, ma anche durante questo, quando i primi trade iniziano a non funzionare e magari se consideri cinque trade, lo capisci subito anziché dieci, che cosa succede? Che passi magari dall'1% allo 0,5, dallo 0,5 allo 0,25 e quindi vai a perdere il meno possibile qua. Quando arrivi poi al rialzo, non ti sei bruciato il capitale mentale, non ti sei bruciato il capitale economico e quindi qua spingi di nuovo, anche perché le regole per spingere qua quanto rischio avere, vedete che se andiamo avanti c'è 0,5 se l'expectancy negativa a breve termine, mai positiva di lungo termine e questo è sbagliato, non è lo 0,1% ma è l'1%, ok? Questo è l'1%, non lo 0,1% ma l'1%, lo ripeto. Che cosa succede? Che questo cambia qua, ma cambia anche qua. Perché? Perché se tu hai tenuto l'expectancy comunque positiva, andando a rischiare meno e prendendo profitti più velocemente, che cosa succede? Che deceleri nella fase di discesa, ma qua sei autorizzato, autorizzato, è per la condizione di mercato, è per la tua expectancy, magari non con l'1% ma magari lo 0,5. Capite quanto è importante rimanere fuori nelle fasi di ribasso o perdere poco nelle fasi di ribasso e tagliare le perdite velocemente? Perché se io taglio le perdite velocemente, la mia expectancy, anche se magari ho il 30% di trade in profitto e il 70% in perdita, sì, è di capitale, non la position. È il rischio, è il rischio rispetto al capitale, non la posizione, ok? Quando arrivo qua, magari inizio con lo 0,5, faccio due trade, l'expectancy mi va in positivo, compro il terzo trade già a 1% di rischio e ancora il trade deve partire. Chiaro il concetto? Questo vi salva nella discesa, uno, guardate quanto è fenomenale questo concetto. Questo è veramente fenomenale, quanto vi salva nella discesa, ma soprattutto vi dà l'obbligo, il permesso più che l'obbligo, il permesso di entrare con size, che è quello che ho detto prima, essere investiti poco quando le cose vanno male ed essere investiti molto quando vanno bene. Cosa vuol dire andare bene? Vuol dire che il mercato è in condizione di avere trazione, di avere gambe e quindi sopra la media 10 a 20 periodi che puntano verso l'alto, ma anche il mio sistema sta funzionando. Capite che non tradare qua non è solo una condizione di, ah, così non perdo soldi nel frattempo, ma è veramente di ottimizzare quel riposo del guerriero di cui parlavamo prima. E' quell'approccio Alla realismo dei mercati, a sapere che ci sono condizioni di mercato come queste E io qua vado a rallentare e qua vado subito ad accelerare. E' chiaro per tutti ragazzi? E' fondamentale questo passaggio, eh? E ci sono tantissime belle cose da fare. Questo è il vero concetto del capitale mentale. Se noi non capiamo questo e iniziate a tradare qua dentro i pullback, i pivot, quello che volete, perché non succede nulla. E' chiaro per tutti ragazzi, solo Massimo e Marco mi hanno detto di sì. E' chiaro anche Alessandro Davide, Ferro Alessio, Sì Giovanni Ragazzi vi prometto Sì Gianluca Che se voi iniziate a ragionare in questa maniera Servono, serve tempo, ok? Anch'io ci ho messo tantissimo a raccogliere i dati, ad avere i dati, a agire in questa maniera Cioè oggi la mia size è letteralmente decisa in termini di rischio Da una serie di condizioni di mercato e una serie di condizioni nel mio portafoglio E funziona benissimo Funziona benissimo Quindi seguendo questo schema l'expectancy ha maggiori possibilità di rimanere positiva anche durante i crolli O comunque di perdere poco E ci dà la possibilità di usare size all'inizio del nuovo uptrend E quindi di guadagnare molto in quei frangenti Questo è tutto il lavoro che dobbiamo fare Il lavoro del trader è questo Vedete che non abbiamo ancora parlato di titoli Perché non abbiamo ancora parlato di pocket pivot Perché non abbiamo parlato di Perché questo è quello che vi cambia la vita Questo è quello che vi cambia la vita E' ovvio che nel 2022 e nel 2023 sia particolarmente frustrante Sia particolarmente lento Sia particolarmente noioso Però è questo Però è questo Expectancy come la calcolate Guadagno medio moltiplicato Vi faccio vedere solo dei numeri Non ci fermiamo tantissimo Qua faremo una lezione dedicata Nei prossimi mesi non so quando Sicuramente entro il 2024 E sì ho detto il 2024 Non il 2023 Guadagno medio in soldi Moltiplicato per la percentuale media Meno la perdita media Moltiplicata per la perdita media percentuale Vi faccio vedere alcune simulazioni Che secondo me è molto interessante Allora guardate questo Diciamo che perdo Le mie expectancy è meno 0,4 in questo caso Ok quindi il numero è questo Che può essere misurato come volete Può voler dire che per ogni euro Perdete 40 centesimi Che per ogni 1% di guadagno medio Allora è 0,40% di expectancy È irrilevante Non è importante il numero Quello che è importante è che sia positivo O negativo E poi quando faremo la lezione specifica Vi farò vedere anche Quanto dovrebbe essere positivo Per essere diciamo matematicamente Come dire Convinti del proprio sistema Del proprio metodo E quindi avere la garanzia matematica Che è questo Che il proprio sistema possa funzionare Guardate questo esempio Io guadagno solo il 30% delle volte Guadagno solo il 30% delle volte Quando guadagno Quindi 0,3 Quando guadagno guadagno un euro Quindi è un risk reward di 1 a 1 Perché perdo il 70% delle volte E guadagno 1 Anche in questo caso Ok Che ci può stare Ci sta in un mercato ribassista L'expectancy è meno 0,4 Guardate com'è interessante cosa succede Quando taglio le perdite Io rimango comunque con il 30% di win rate Comunque con il mio 1% di guadagno Ma quello che faccio è andare a tagliare le perdite Andare a tagliare subito le perdite Meno 0,05 vuol dire Un risultato 8 volte migliore Rispetto al precedente 0,05 rapportato a 0,4 è 8 Non è 0,01 È 8 il risultato Quanto è più recuperabile Una perdita 8 volte inferiore Rispetto ad un'altra Ci sta Però tagliate più velocemente le perdite Non è che dovete aumentare il reward Perché non c'è trend Non c'è trend Non potete dire Vabbè faccio 4 di risk reward Non c'è il trend Nel 2020 Nel 2021 Si poteva fare Nel 2022 2023 No Ma che cosa posso fare? Posso dimezzare le mie perdite Perché? Perché Medo lo stop loss al 5% Però una volta che Chiude in negativo Per la giornata La chiudo E la dimezzo Quella perdita 8 volte 8 è un numero enorme Nel trading Un altro esempio Diciamo che taglio ancora di più Che è quello che stavo Che vi dicevo anche io Nei giorni scorsi Sono arrivato al punto di Giornata negativa Cioè io compro a 10 Alla fine della giornata È 9.98 Chiudo la posizione Compro a 10 Fine della giornata È a 10.2 Tengo la posizione Il giorno dopo 9.8 Chiudo la posizione Questo vi permette Non di aumentare i guadagni Perché ovviamente Non aumentate i guadagni Ma Il mio stop loss Taglio le perdite Sì però Taglio le perdite E guardate cosa è sparito da qua Che cosa è sparito da qua Il segno meno È sparito il segno meno Qualcuno mi spiega Che cosa ha questo A che fare con Se ti piace quel titolo Perché non ce l'ha in portafoglio Non c'entra niente Non c'entra nulla Esatto Massimo Non c'entra nulla Non c'entra niente Il come andrà quel titolo L'uranio Il trade Chi se ne frega Ma chi se ne frega È sempre possibile così? No E va sempre così? No Ma se io la approccio In questa maniera Limito il danno Non va sempre così C'è sempre quella giornata Che non ti sei svegliato lucido Che non hai fatto le cose Che dovevi fare Che ti va storta Che vabbè Magari stavolta Ci sarà sempre Ma Non vado a combattere A far la guerra Con i numeri Dalla favola La matematica Mi piace particolarmente Ok Guardiamo altri numeri Anche qua Vado a Al contrario Guardate che cosa succede Invece se Magari Prendo subito profitti Perché Ho preso troppe perdite Farmi prendere 20 euro di profitto E il rischio rimane uguale Perché intanto Gli do il tempo Di muoversi Guardate cosa succede Il dato peggiore In assoluto C'è quasi per 2 Più 100% Rispetto al dato iniziale Rispetto al dato iniziale E non è raro Perdere L'80% Delle volte In un mercato Ribassista Se insistete Se insistete Ecco perché Tutti quelli stop loss Che scattavano All'inizio dell'anno Non era un caso Nel 2022 Tantissimi 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 E il rischio quindi È di spingere troppo Per recuperare le perdite Quando avete questo dato Allora Al minimo rialzo Cosa fate? Spingete 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 Perché dovete Recuperare le perdite Ma il mercato Magari non sta ancora Bruciando Non sta ancora funzionando E continuo a bruciarvi Che cosa? Ulteriore capitale Mentale E economico Abbiamo visto 2-3 slide Che bastano da sole Abbiamo visto 2-3 slide Che bastano da sole Fatene Fatene buon uso Su queste cose Su queste cose Sono molto Io vado La situazione peggiore Che posso ottenere Non la situazione migliore Così Magheggio I numeri 70% di perdite Non miglioro Neanche il mio reward Perché non posso migliorarlo E il mercato fa schifo Fa breakout E poi crolla Ma posso tagliare qua E non taglio E non mi interessa Che poi dopo Il titolo E se dopo sale Non mi interessa Perché per quello che sale Ce ne sono 5 che crollano E la mia aspettativa Rimane negativa A me interessa Che questo numero Sia in positivo Per tutto il tempo Non mi interessa E se il titolo sale Dopo Non è un mio problema Non è il mio business Il mio business Da trader Questa scrivetela E diventerà Un altro dogma Un po' come Non ci interessa Dire mercato rialzista Mercato ribassista Ma ci interessa Parlare in termini Di Sono in una situazione Di basso rischio E alto rendimento Il lavoro del trader Non è trovare E trovare trader A basso rischio Ma non è trovare I titoli che saliranno I titoli che faranno Il trader Il lavoro del trader È avere un'expectancy positiva Questo è il vero lavoro Del trader Questo è quello Che vi garantisce Il successo Nei mercati Non c'è altro E vi garantisce Il successo A prescindere Dalle vostre previsioni Da quanto La vedete giusta Da quanto Capiamo La macroeconomia Certo che è importante Certo che ci dà Il contesto Certo che La utilizziamo Ogni giorno Ogni giorno Ogni giorno Guardiamo quello Che sta succedendo A livello macroeconomico I dati macroeconomici Delle aziende E la Fed Caspita Cosa c'è più Di importante Del dato macroeconomico Della Fed In quantitative easing Non c'è niente Di più importante Perché quello Fa salire i mercati Non c'è niente Di più importante Del macroeconomico Ma alla fine di tutto È ok In base a quel dato Il mio numero È positivo Oppure è negativo